Tornano le classifiche dei migliori componenti e periferiche e questo video è dedicato ai migliori mouse gaming del momento. Ora, subito le regole. Ascoltatele. I mouse in questa classifica non sono frutto di mie scelte personali. Per stilare la classifica ho analizzato una grande quantità di guide online dei siti più famosi. Ho quindi effettuato un calcolo statistico considerando tra tutti i siti i modelli più consigliati del momento. Questa classifica può quindi essere considerata l'opinione generale della rete e di tutti i siti di informazione. Se non sei d'accordo con i modelli indicati, ti ricordo che sei davanti a un'analisi statistica e ai consigli della maggior parte dei siti ed esperti del settore. Sei sempre benvenuto a segnalare ulteriori modelli nella sezione dei commenti. Ora vediamo la top 10, appunto i 10 mouse più consigliati in generale per il gaming. In generale significa che ci saranno modelli per MMO, modelli per FPS e via discorrendo. Quindi non è una guida specifica solamente per una tipologia di mouse. Quella la farò in futuro. Alla decima posizione troviamo il Corsair Scimitar RGB Pro, che è un mouse dedicato ai giocatori di MMO, grazie chiaramente al tastierino numerico posizionato sul lato del mouse, che permette di accedere velocemente a tutti i comandi necessari per una MMO. Tra le altre caratteristiche di questo mouse è sicuramente la possibilità di regolare la sensibilità in maniera molto precisa, così da trovare la migliore impostazione per tutti gli utenti. Al nono posto il Razer Basilisk Ultimate, che per alcune fonti che ho valutato è addirittura il miglior mouse da acquistare. È sicuramente un prodotto ottimo per i destrorsi, molto ergonomico, connettività wireless, dock di ricarica per la batteria, un sensore molto preciso e appunto una connettività wireless molto veloce, che riduce tantissimo, praticamente a zero lag. L'unico difetto è probabilmente il prezzo, perché stiamo parlando di 200 euro. La caratteristica forse più particolare di questo HyperX è la possibilità di andare a regolare in maniera super personalizzata le 32 aree di illuminazione RGB. Poi per il resto è abbastanza come dire standard, comunque buono, ha un sensore Pixart tra 16000 dpi, una forma arrotondata che lo rende idoneo alla maggior parte degli utenti. Il costo è comunque limitato. Il G Pro Wireless di Logitech è un mouse che io definisco complesso, nel senso che ha tutte le caratteristiche top dell'industria del momento, quindi un sensore da 16000 dpi molto prestante, connettività wireless veloce fino a 40 euro di autonomia, una base di ricarica bella e funzionale, possibilità appunto di ricarica wireless, e tutto questo in un peso di 80 grammi, che è poco per quanto offre. Non è un mouse senza fronzoli, tutt'altro, è un mouse per chi vuole un prodotto estremamente polivalente, da essere utilizzato un po' ovunque, e magari che lo vuole anche trasportare. Il prezzo di 130 euro non è basso, ma rispecchia la quantità di caratteristiche che offre. Il DeathAdder Elite di Razer, a contrario del Logitech che abbiamo appena visto, è un mouse estremamente essenziale, ma dà le elevate prestazioni. Monta un sensore da 16000 dpi, come in molti altri casi, ma è un processore estremamente, estremamente preciso, che lo rende perfetto per laddove è necessaria un'allevata precisione, quindi soprattutto negli FPS. La forma è tale da renderlo idoneo per la maggior parte dei giocatori, e per tutte le tipologie di impugnature, e il prezzo è molto concorrenziale, perché stiamo parlando di una quarantina di euro. Ha molto in comune con il G Pro Wireless, ma sono state tolte, come dire, delle caratteristiche che non sono super essenziali per tutti. Quindi il sensore ha una definizione minore, quindi 12000 dpi, ma non serve, nella maggior parte dei casi, un numero elevatissimo di dpi per giocare bene. Comunque il sensore è un sensore preciso, veloce, offre la ricarica wireless, non offre una dock come il G Pro Wireless, e pesa di più, che per alcuni potrebbe essere anche un vantaggio. Quindi quello che è stato tolto rispetto al G Pro Wireless, probabilmente per alcuni non sarà un problema, e in questo caso si può risparmiare un po', perché appunto questo Logitech costa un centinaio di euro. Il Corsair Harpoon è per molti il miglior mouse gaming economico in circolazione. Corsair ha tagliato tutto quello che non serviva, ha lasciato un sensore da 10.000 dpi, ha tolto tutti i pulsanti in più, quindi sono come dire pulsanti unicamente standard, offre ugualmente la connettività wireless, e lo pagherete 60 euro, che per un mouse wireless con queste caratteristiche è sicuramente poco. Ritroviamo in classifica un altro mouse Corsair, in questo caso dato a chi ha le mani grandi. A un prezzo decente, perché parliamo di un'ottantina di euro, avrete sicuramente un mouse molto versatile, che offre anche doppia connettività, wireless 2.4 giga e bluetooth, e oltretutto la sensibilità del sensore è estremamente personalizzabile, quindi potrete proprio regolarla in maniera ultra precisa in base alle vostre necessità. Non è il top dei mouse wireless in circolazione, ma è quello che offre il meglio tra il prezzo e la versatilità d'uso. Il Razer Naga Trinity è tra i più consigliati nelle guide che ho analizzato, e probabilmente è appunto tra i più consigliati perché è una sorta di 3 mouse in uno. La particolarità è sicuramente la spalla che si può personalizzare, con un tasterino numerico a 12 tasti, uno a 7 tasti posizionati in maniera circolare, e uno più classico a 2 tasti. Quindi sicuramente ottimo per gli MMO, ma appunto avendo questa caratteristica può essere idoneo anche per altre tipologie di gioco. E tutto questo diventa ancora più interessante se consideriamo il prezzo, perché parliamo di un'ottantina di euro che non è basso, ma non è neanche alto. In cima alle classifiche il mouse che è praticamente consigliato in tutte le guide, o il 90% delle guide che ho analizzato, parliamo del Logitech 502 Speed Lite Wireless. In cima alla classifica un mouse che ho praticamente trovato nel 90% delle guide analizzate, parlo del Logitech 502 Lite Speed. Gli 11.000 voti su Amazon non fanno altro che sottolineare l'interesse che c'è attorno a questo modello, e quante persone effettivamente già lo hanno acquistato con delle ottime votazioni. È un mouse ergonomico, sensore da 16.000 dpi, sistema wireless a latenza praticamente zero, una lunga durata della batteria, possibilità di variare il peso, e di conseguenza anche il centro di gravità. Se avete 100 euro da spendere, volete un mouse idoneo praticamente tutto, che offre il miglior rapporto tra prezzo, caratteristiche e prestazioni, questo è il mouse che dovreste acquistare. Amici, questa era la guida dei migliori mouse gaming del momento. Realizzata, ripeto, come ho detto, in maniera puramente oggettiva statistica, andando a considerare tutti i vari dati che vi ho appunto raccontato. Se avete saltato all'inizio del video e non sapete perché ho fatto queste scelte, in realtà appunto sono scelte derivate dall'analisi statistica, guardate all'inizio del video che la procedura è ben elencata. Io diciamo che sono d'accordo con diversi mouse all'interno di questa guida, con altri un po' meno, ma come detto io mi sono rimesso completamente a un metodo, come dire, scientifico per evitare anche quelle che possono essere delle opinioni troppo personali. Farò altre guide di questo genere, suggeritemi magari quella che vi interessa di più, così magari cambio un po' la precedenza nella mia scaletta. Grazie per avermi seguito, vi raccomando, condividete questo video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!